benvenuti a un nuovo episodio di in risposta scombo e oggi vogliamo parlarvi finalmente il podcast si è evoluto e ha abbandonato ufficialmente il fatto che questo podcast parlasse solo di magic basta ci siamo rotti il cazzo ufficiale ci siamo rotti il cazzo di magic mettetelo a verbale quindi adesso in poi questo podcast parlerà di un sacco di altri giochi per esempio cluedo esatto solo cluedo in risposta indizio in risposta il meta di cluedo osserve qualche ban oggi la puntata verte soprattutto su questo argomento il colonnello mustard e op l'arma del delitto coltello siamo proprio sicuri che debba stare nella sala da pranzo secondo noi è meglio metterla per esempio non lo so in giardino ecco questo e altro da adesso in poi su risposta scombo ma è vera è assolutamente vera festeggiamo così la vigilia di natale aprendo c'è il mondo eccezionale di cluedo massimo prima di partire con la puntata che in realtà verte sul ritorno a ravnica investi di investigatori sai dove puoi trovare cluedo indovina un po dove posso trovare cluedo da fantasia store e sai chi ha una partnership con fantasia store e ha un codice scombo proprio noi proprio noi grazie al codice scombo 5 potete ancora siete in tempo beh arriveranno dopo natale però insomma per la beffana se non l'avete fatto per la beffana potete fare dei regali ai vostri figli beh io ne ho fatto uno per esempio i miei figli guarda un po che bel gioco di ruolo che ho comprato proprio piccole detective di mostri ed è un piccolo appunto gioco di ruolo che si fa in tema assolutamente con la puntata perché è proprio una puntata detective ma poi dovevo fare un regalo anche per il ragazzo di mia sorella ho detto sai che c'è zombie side che tra l'altro pensa un botto e io grazie al codice scombo 5 l'ho pagato col 5 per cento di sconto e chiaramente faccio anche della palestra tu invece quale regalo io mi sono fatto un regalo perché gli altri li ho impacchettati ho preso exploding kittens per mia nipote ma l'ho appena impacchettato ieri sera quindi non ve lo posso far vedere mi son fatto io il mio regalo cioè mi son preso il porta deck di pantlazza associato in combinazione con le bustine arancioni per il mio pantlazza e devo dire che per chi gioca commander double sleeve i porta deck della game genic che trovate appunto su fantasia store sono eccezionali perché ci stanno benissimo le carte quindi portiamo qui consigli per i regali di natale in ritardo ma buon natale ascoltatori scombo 5 regali della befana con il 5 cento di sconto su tutto il catalogo uno scontato di questo hobby store un servizio clienti da manuale ma sai cos'è un'altra cosa di cui dovremmo leggere il manuale questo era un gancio difficile questo era un gancio difficile ma bello e appunto dobbiamo parlarvi di ravnica clue edition già non volevamo parlarvi in verità di clue ed era tutta una burla ma insomma l'avete capito sicuramente da soli però nel parlare della prossima espansione magic che li cui spoiler i primi spazi sono già usciti e noi li abbiamo saltati a più e pari non abbiamo voluto fare il solito discorso di parlare poi di carte che alla fine sono proprio poche oggi lo faremo ma abbiamo preso comunque abbiamo colto l'occasione la palla al balzo anzi l'indizio al balzo per parlarvi di questa nuova di questo nuovo prodotto perché questo è veramente un prodotto completamente che c'entra qualcosa con magic sì ma fino a una certa che cos'è ravnica clue edition caro fabrizio allora ravnica clue edition oltre a essere un modo per ristampare fetch no scusami fetch shockland solo shockland non più fetch oltre a essere un modo per ristampare le shockland e quindi comunque vendere un botto 100% e di questo parliamo poi a fine puntata di questa delle ristampe delle carte che trovate in questo gioco da tavola che è un mix fra clue edo con le carte che sono effettivamente carte di clue edo incredibile adesso vi faccio vedere dining room che ha proprio la stanza dining room oppure il led pipe che un equipment come arma del delitto è un mix fra clue edo e magic quindi tu hai i personaggi di magic con le abilità di magic ad esempio lead pipe che questo equipment clou che funziona sia come carta appunto classica sia come interazione alla clue edo non sappiamo ancora i dettagli però il concetto è proprio questo se viene da vedere comunque le immagini su internet troverete proprio un gioco non ha un tabellone sicuramente si useranno le carte le carte che sono tipo pacchetti jumpstart questo ve lo dico prima perché comunque è un dettaglio che è uscito si useranno le carte per giocare ma il gioco non sarà tu hai venti punti vita io te li levo caro fabrizio zio garbe no sarà appunto scopri il mistero chi ha ucciso chi e quant'altro esattamente come cluedo perché cluedo chiaramente è un prodotto di asbro si chiama clou tra l'altro ve lo volevo dire negli stati uniti cluedo non è il nome appunto statunitense è un gioco che permette a giocare da quanto si gioca in tre mi sa al minimo a sei bisogna indovinare il e l'assassino che cosa è successo nella stanza bla 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 appunto questo gioco fa 75 anni fabrizio se non sbaglio beh qua adesso mi chiedi non sono ancora preparato per fare il podcast di cluedo verticale simo 75 te lo dico io te lo confermo 75esimo anniversario del gioco e quindi asbro prende la sua gallina alle uova d'oro che sappiamo essere magic the gathering ovviamente la unisce a un'altra ip e questa volta facciamo lo universe beyond in cluedo capito come è il fan di cluedo quanto stanno rosicando in questo momento e di no porca puttana ma dov'è il colonnello mustard perché c'è questo tizio che sembra chi cazzo è jace chi chi è non lo voglio io voglio miss scarlett io voglio i miei capito e rosicano chiaramente ci saranno anche dei reddit in cui rosicano e uno con l'altro si spalleggiano dicendono ah che cazzo questa contaminazione nel nostro gioco preferito e così via però posso dirti facciamo una predicta secondo me a ridosso uscirà un secret layer con i personaggi di cluedo bim bum bam proprio tutti i panci comunque ormai non non hai più freni non hai troppe prediche a quando hai preso a fare video youtube quindi questo lo diciamo chiaramente per tutti coloro che ci seguono su spotify che magari non si sono ancora accorti che lo zio è di nuovo nel business e niente non sei in ferma immarcare ma io non ho più limiti simon una cosa proprio non non ti tengono non ti tengono non ti tengono è giusto così ma tu cosa ne pensi di questo prodotto poi vediamo gli spoiler delle carte intanto penso una cosa importantissima e cioè che voglio rivolgere un messaggio wizard of the coast allora fabrizio è tornato in pista io lo sono sempre stato mandateci sto cazzo di cioè nel senso io lo voglio ravnica club edition no facciamo un appello a wizards come se fosse utile facciamo un episodio è una cosa un po' da come si dice da barboni oddio questo è political correct no allora facciamo così sì lo voglio comprare comunque lo voglio vedere lo voglio giocare facciamo un episodio speciale quando uscirà e organizziamo un cluedo di risposta scombo magari con dei patreon facciamo magari con i patreon che altro gancio incredibile abbiamo ricominciato a scrivervi a dirvi le puntate in anteprima a comunicare con voi quindi se volete un contatto molto più intimo con le mutande volevo dire con i nostri indizi per le puntate la vita di zio garbe e simone dovete assolutamente diventare i nostri patreon perché intanto appunto avrete carte firmate e tantissimi altri diciamo come si dice perks esatto in italiano non mi veniva che trovate sul sito e chiaramente in descrizione c'è tutto ma soprattutto sostenete questo podcast perché senza il patreon probabilmente non saremmo qua no non riusciremo a coprire i costi vivi di tenere online le puntate comunque detto questo sì c'è assolutamente perché no organizziamo con qualche patreon una partita online a questo ravnica glue edition se si potrà mai fare qualche modo e poi magari magari la mettiamo come risposta scombo extra chi lo sa però fatto sta che ripeto è un prodotto che vi dico già avrà appunto i clue che sono degli indizi che non quindi due mana pesco avrà delle prove avrà delle armi del delitto che sono degli equipment ci sarà il combat damage ok quindi da quello che si capisce io ho letto la wiki e sono in tutto sette righe quindi si capisce benissimo si pescheranno queste carte si mischia questo mazzo e bisognerà cercare appunto di risolvere il mistero con ogni scatola di ravnica glue edition arriverà anche un box stopper quindi una carta e cioè una shockland una shockland di un nuovo disegno immagino che tu fabrizio adesso la stia facendo vedere falla vedere e qui cominciamo quindi a parlare di magic perché adesso parliamo anche appunto chiaramente di come si chiama la nuova spazio no perché anche lì si parla di clue e quindi murders at carlov manor e cominciamo a parlarne con questo box stopper questa steam vent su cui ragazzi miei incredibile tocca pure leggere una polemica sì prima di parlare della polemica precisiamo un prodotto è ravnica clue edition un altro prodotto è ravnica remastered e un altro prodotto ancora è il set effettivo quindi legale in standard che è murders at carlov minor e partiamo però parlando di questa steam vent che ha creato un enorme un enorme diatriba perché se ci fate caso amici che la vedete visualizzata su youtube questa steam vent dice steam vent terra isola montagna quando entra nel campo di battaglia puoi pagare due punti vita se non lo fai entra in gioco tappata e il mana dove sta scomparso quanto aggiunge come funziona già c'è stata questa polemica davvero sterile come se nelle foreste textless ci fosse scritto qualcosa relativamente al aggiungi mana verde però sì i queste chocolate non hanno l'indicazione di che mana danno ragazzi quindi non danno mana non le comprami no l'indicazione è fondamentalmente nella tipologia di terra un'isola montagna quindi da blu per l'isola e rosso per la montagna non insieme come direi che è sempre stato insomma come è sempre stato quindi in realtà è un'innovazione secondo me interessante togli un po' di text box che male non fa allora dobbiamo parlare di questi murders at carlov manor che comunque partiamo dalla lore molto interessante no volevano in qualche modo tornare a ravnica ma anziché tornare a ravnica tornano solo in un maniero di ravnica carina è un'idea no? molto carina ho paura che sia un po' simile a nozze cremisi dove la lore era inutile però qua magari l'incipit allora il concept del set con questa unione con Cluedo per me è una bomba incredibile secondo me genio genio chi l'ha ideato bellissima l'idea ma infatti stanno facendo veramente tantissime cose perché hanno a disposizione tante risorse perché magic sta andando bene questa cosa secondo me si vede il 9 febbraio 2024 potremo mettere le mani sull'espansione che chiaramente sarà molto importante per quanto riguarda il pro tour successivo quello di Chicago che andrà in scena l'ultima settimana di febbraio se non sbaglio l'ultimo weekend e anzi l'ultimo venerdì sabato e domenica e che sarà Pioneer chiaramente ci si aspetta in questa murder a carlof manor gli ha un po' una spinta un cambio un qualcosa in Pioneer e tra l'altro voglio dire subito tra gli spoiler ci dicono che sì qualcosa in Pioneer succederà vero perché una carta molto amata verrà ristampata in questo set ed è una carta anche molto potente è una carta molto potente che io conosco molto bene perché come sai in modern no in modern giocavo Burn appunto l'Odi l'Odi sotto sotto l'Odio però allo stesso tempo ho confermato il mio amore per Boros e quindi continuo a giocare Boros anche in Pioneer non Burn ma chissà perché con l'arrivo di Lining Helix questo istantaneo che costa uno rosso e uno bianco che infligge tre danni a un qualsiasi bersaglio e ti fa guadagnare tre punti vita magari può uscire Burn manca ancora uno sparo grosso però come dire Lining Helix non male insomma voglio dire si sta parlando di una carta iconica che ha fatto la storia di Magic quando era in Standard chiaramente si gioca ma va cioè tre danni e tre vite mi sembra abbastanza grosso in Modern si è giocata per molto tempo non solo in Burn ma anche in Jasky Control te lo ricordo si è giocata pure in Zos si è giocata in un sacco di mazzi cioè trovo fantascientifico che questa carta non abbia un impatto all'interno di Pioneer è vero che non ci sono mazzi bianchi rossi adesso se non Boros Convoke che forse non userà questo tipo di carta però c'è in generale una carta al power level davvero molto molto interessante allora passiamo invece ad altre carte che ci hanno fatto vedere ragazzi chiaramente qui stiamo parlando ancora proprio dei primissimi spoiler con cui hanno presentato questa Murders of Karlo at Karlof Manor quindi c'è poco quello che c'è però comunque interessante passiamo ad Alquist Proft Master Sleut un nome difficilissimo dopo Ixlan non è che è migliorata con i nomi esatto un bianco blu un incolore un cre una creatura leggendario un detective umano che come statistiche fa 3-3 di cognome e di nome c'è Vigilance quando entra il campo di battaglia investiga quindi fa un bel clou bellissima la sua abilità bellissima perché a livello di lore secondo me qui c'è qualcosa assolutamente sotto praticamente pagando due blu uno bianco e x sacrificando un clou guadagni x vite e peschi x carte cioè praticamente questo Alquist fa una Sphinx Revelation tutte le volte che voi sacrificate un clou molto probabilmente la cosa si lega al fatto che la Sphinx Revelation è come una rivelazione appunto che un buon detective può avere per scoprire che cosa c'è sotto al caso assolutamente questa interpretazione mi piace molto non l'avevo colta però ha senso e tra l'altro riprende un'altra carta iconica io sono un grande fan dei clou che appunto ne abuso in Voros Convok e quindi sono ben contento di vedere una carta come la Triban Inspector che torna sotto forma di novizia anche qui interessante per Pioneer perché questo Human Detective costa 1 bianco 1 2 quando entra nel campo di battaglia investiga ovvero crea un clou token esattamente come la Triban Inspector e qua si questa carta è interessante per Boros Convok beh questa carta è interessante soprattutto per il formato Pauper perché hanno avuto l'ardire di farla comunque comune quindi i vari Boros Synthesizer ma non solo tutti quelli che si riprendono le carte avranno un nuovo Triban Inspector diciamo che io non sono per niente un fan degli 8x cioè questa è una carta identica è identica 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 a parte il tipo di creatura ok dove Triban Inspector se non sbaglio è un human soldier questo è uno human detective quindi comunque è sempre un umano quindi se chiedi a me ti dico beh ma perché serviva proprio l'8x di Triban Inspector ai mazzi che vogliono giocare di Triban Inspector no l'8x troppo però sai Convok gioca Topter che potresti ridurre le copie alcuni dicevano di fare due copie di Topter e poi il 2x di Novice Inspector questo sto leggendo online come split per arrivare a 6 copie comunque vedremo non mi piace non è che non sono convinto sono convinto che la carta sia forte già si gioca e già si gioca in multiformato però c'è già il 4x come dire esatto non mi piace questa idea qui invece Wizard addirittura l'ha lanciata come ah finalmente avrete l'8x di Triban Inspector ma sti cazzi fai qualcosa di nuovo qualcosa di più bello comunque allora ci muoviamo dal bianco e dal blu bianco al rosso e il nero quando si parla dell'Eravnica c'è sempre in agguato Rakdos quanti Rakdos ci sono Simo? ma badonna spariati proprio ma quasi come un botto di Rakdos tra l'altro alcuni hanno visto il gioco te lo ricordi quello due rossi due neri che scontava le spell quello era un commander è stato anche per parecchi anni uno dei commander più giocati in assoluto nella vita ti parlo di ormai 6 anni fa quando volevo buildarlo e comunque Rakdos tra l'altro tornerà anche in un futuro set perché almeno si vede poi in quello tema part west faremo la puntata di recap su tutte le nuove uscite del 2024 però sembra che quel demone sia effettivamente Rakdos quindi ci sarà un altro Rakdos quanti ce ne sono? sì Rakdos tra l'altro vorrei sapere da voi nei commenti se è l'unico personaggio perché a me non è che mi vengano in mente altri che ha il nome della gilda perché sapete che a Ravnica ci sono le gilde bianco blu per esempio Azorius blu verde per esempio Simic e così via però ha proprio il nome della gilda è una carta cioè nel senso quando tu dici Rakdos come colore rosso nero ti riferisci spesso a questo mostro non è che esiste la carta Azorius o c'è? no che io sappia no poi ci correggeranno nel caso l'enciclopedia di risposta scombo non sono i nostri due cervelli che per carità signori siete fortunati comunque a partire da una solida base mamma mia però siete sicuramente voi tutta la nostra community che magari ci dice no ma che cazzo stai dicendo Akira guarda che c'è per esempio non lo so Selesnia il personaggio come Rakdos c'è Selesnia non mi pare però vediamo vediamo appunto cosa rispondete comunque questo nuovo Rakdos è interessante Fabri è un 6-6 demone leggendario che costa 6 di cui 4 in colori 1 nero e 1 rosso volare travolgere all'inizio della tua end step un avversario specifico che scegli può sacrificare 2 permanenti non land e non token se non lo fa tu peschi 2 carte la cosa interessante che lo metti in gioco è il trigger parte dall'end step esatto era proprio quello che volevo dire io non ho altro da aggiungere vostro onore una di quelle carte che fa vantaggio subito chiaramente ragazzi inutile dire che se dovesse essere un 6 mana sacrifichi due pezzi che non sono solo creature puoi sacrificare un line binding una roba del genere non token sarebbe abbastanza devastante solitamente sarà un 6 mana alla fine peschi che è molto meno impattante ti faranno sempre pescare credo si dipende però sicuramente è una carta molto interessante per Pioneer siamo d'accordo che è un po' da capire da capire detto questo da investigare ecco da investigare questo set signori io lo dico secondo me idea davvero forte ambiziosa ma molto forte è carina è carina a me l'idea piace molto chiaramente adesso sono super curioso di mettere le mani o le mano le mani su sul gioco di società fondamentalmente per vedere com'è cosa si sono inventati e che sono proprio curioso di capire come poi si interagisca in qualche modo con le regole di magic con le carte di magic ma su un gioco che rappresenta tutt'altro se vogliamo e sono meno onestamente hypato per il set non c'è un set Ravnica sai che a me piaccia a me piace Ravnica come piano cioè mi piacciono i personaggi mi piacciono le gire io adoro le Shockland in generale proprio come le immagini delle Shockland io ricordo l'immagine di Halloween Fountain proprio la prima che trovai della vecchia Ravnica cioè meravigliosa però no guardo al futuro e guardo più al 2024 Modern Horizon 3 questa roba qui che insomma mi mette molto più hype di questo Murders of Karl of Manor però faremo una puntata faremo una puntata dedicata sui prossimi prodotti quindi non spoilerare troppo Simo va bene mi raccomando Modern Horizon 3 non lo sapeva nessuno 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 non ne parliamo più va bene allora direi che con questo è tutto Risposta Scompo finisce qui anche questa settimana il nostro augurio più sincero per tutti voi di passare delle serenissime e magari insomma anche ricchissime di regali sperando appunto di avervi un minimo alleviato 52 per circa un'ora una quarantina di ore durante quest'anno anche se la puntata finale dell'anno l'avrete il 31 quindi proprio giusta e chiaramente lì ci avremo come al solito come ci piace sempre fare top e flop per quanto riguarda quest'anno incredibile per Magic the Gathering che è stato veramente un anno incredibile stupendo molto bello troveremo dei flop andate tranquilli speriamo voi non riceviate troppi flop sotto l'albero di Natale e ci sentiamo a sto punto quindi con l'ultimo giorno dell'anno grazie per aver ascoltato ragazzi ho guardato se eravate su YouTube ho guardato